C'è l'intesa tra il Comune e i commercianti aquilani per l'avvio dei lavori in piazza Duomo per il restyling del cuore del centro storico. Il vice sindaco ha incontrato i commercianti della piazza e non solo e si è trovato una soluzione che cerca di accontentare tutti. I lavori procederanno per step sia per la piazza che per il corso, cercando di creare meno disagi possibili alle attività. Lunedì parte il cantiere per un altro pezzo di corso in direzione Fontana Luminosa dai quattro cantoni. A proposito invece della piazza, dopo che il Tarra ha dato ragione al Comune bocciando il ricorso di una ditta esclusa, anche qui si è pronti per partire. Entro una quindicina di giorni il cantiere potrebbe essere avviato. La prima parte interessata dai lavori sarà una L, il lato dei negozi e del Duomo, poi il lato del vecchio edificio e delle poste, con interruzioni per la perdonanza e Natale. Questi i primi interventi. Il Comune ha ben preparato con attenzione tutti i passaggi che deve fare per limitare i danni. Lasceranno dei corridoi, il giorno di disagio sarà lunedì, che toglieranno l'asfalto. Poi da lunedì in poi sarà costruito dei passaggi dove comunque i negozianti non verranno danneggiati. Questo diciamo per il corso, anche per la piazza si lavorerà a step, questo vi è stato detto? Per la piazza lo stesso, si farà lo stesso percorso, quindi si farà a step lasciando comunque la possibilità ai commercianti di lavorare. E poi quando sarà il momento di arrivare vicino ai negozi lo faranno soltanto dalle 19 la sera in poi. Quindi insomma si cercherà di limitare i danni, è un sacrificio che dobbiamo fare tutti per la città e per cercare di attutire anche i danni che potrebbero arrivare da questi lavori. La pietra di piazza Duomo sarà bianca ma si sta valutando l'intesa con la soprintendenza all'uso di una parte più scura sul grigio per la parte centrale. I commercianti sopporteranno questi disagi assolutamente necessari ma rimane un grande problema quello dei parcheggi. Torno su un discorso ormai vecchio che è comunque sempre lo stesso, il problema della fruibilità del centro storico. I pullman che non arrivano in centro, i parcheggi che non ci sono e quindi abbiamo sempre le solite problematiche che ormai ci attanagliano, ormai tagliano questa città da sempre. Quindi insomma mi auguro che con nuovi progetti, il PNRR e la volontà dell'Aggiunta che riescano presto a trovare una strada per risolvere questo problema.